Ciao a tutti ragazzi io sono Coridan ancora una volta ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo formato che durerà almeno un mesetto perché come vi ho già anticipato negli altri video ci stiamo trasferendo quindi siamo in fase di trasloco vi faccio delle anteprime degli ultimi giochi che ci sono arrivati giochi di cui successivamente vi farò la video recensione nel mio formato a cosa ne penso quindi il video che vedete adesso è unicamente una piccola e veloce anticipazione di qualche minuto al gioco che poi successivamente vi andrò a presentare oggi vi parlo di Pandemic, edizione italiana a cura di Asmode Italia che ringrazio di cuore per averci offerto questa copia per la recensione e Pandemic nella sua versione base che qui vedete nel frattempo in questo veloce video con presentazione della scatola e unboxing è un gioco che non ha bisogno di alcuna presentazione perché è un titolo famosissimo che ha avuto tantissime espansioni addirittura anche espansioni ambientate al tempo dell'antica Roma o anche ambientazioni un pochino più sci-fi perché è un gioco molto interessante cooperativa al 100% che ci vede nei panni di un team di studiosi e di specialisti che dovranno andare a salvare il mondo e fermare e spegnere i vari focolai un po' come abbiamo visto purtroppo in questi due anni il focolai o del covid e la propagazione di un virus che potrebbe diventare pandemia e contagiarci tutti quanti quindi il nostro scopo agendo come gruppo in cooperativa in un gioco solo in cooperativa è quello di stare attenti che non si propaghi il virus e soprattutto che non nascono nuovi focolai perché regole del gioco che poi vi spiegherò molto meglio come vi ho detto infatti durante il video cosa ne penso il problema principale del gioco sono i focolai perché se una città viene completamente di solito con le regole del gioco quando vengono messi tre cubetti di un colore perché ogni colore del cubetto che dovrebbe essere quattro scusate cinque sono i cinque virus differenti quando una città riceve tre cubetti dello stesso colore quindi dello stesso virus è stata completamente contagiata e a meno che il virus non venga debellato o comunque arginato dal quarto cubetto in poi quella città darà il via a un focolaio e dando via al focolaio tutte quante le altre città adiacenti nella mappa che comprende tutto quanto il mondo andranno a generare a loro volta altri cubetti dello stesso virus che poi arrivato al quarto cubetto diventerà a sua volta un focolaio e potrà andare a contagiare tutte quante le regioni, le nazioni e le città soprattutto le capitali adiacenti quindi è un gioco dove bisogna organizzarci bene fare una corsa contro il tempo, avere le giuste carte in mano perché è comunque un gioco di carte e soprattutto cercare in tutte le maniere di arginare i focolai prima che sia troppo tardi seguirà successivamente come vi ho detto un video cosa ne penso e vi ricordo che se lo volete ordinare primo link in descrizione in sua impressione dalla gioco libreria Semola nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato e vi ricordo per ogni acquisto di usare sempre come vedete a nota e a schermo il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% il gioco è già disponibile ma nel caso fosse finito o non fosse presente in lista mandate una mail al supporto e fate presente che arrivate dal mio canale ve lo farà avere nel giro di 24 ore e per spese superiore ai 79 euro spese postali gratuite in tutta Europa quindi anche fuori dall'Italia come vi ho detto seguirà un cosa ne penso e io ringrazio ancora una volta di cuore Asmo d'Italia per avermi offerto questo gioco di cui vi ho fatto una velocissima presentazione e ne seguirà recensione a breve ciao ragazzi alla prossima